Oggi vediamo un altro aspetto del Packing Ready, questo indice di pericolosità di cui ci aveva già parlato Nelle Adani. Il cambio di gioco, no? Sì, andiamo ad analizzare quest'altro aspetto. L'altra volta abbiamo parlato dell'imbucata, la cosiddetta verticalizzazione La palla centrale che fa saltare due sbarramenti difensivi e avversari e trovi l'uomo tra le linee di centrocampo e la linea di difesa Questa è un'altra situazione di Packing Rate. Interessante. Allora, noi orientiamo la squadra avversaria Che è sempre posizionata, vedete, i quattro difensori, i quattro centrocampisti e le due punte Verso il nostro offensivo sinistro. Quindi loro sono spostati verso la loro zona destra di difesa Allora, nella circolazione il centrale di sinistra trova il terzino sinistro Allora, ovviamente gli avversari si orientano in zona palla, no? Quindi lasciano scoperto questa zona di campo. Questa la andiamo ad attaccare dopo e vedremo come Allora, nei movimenti la punta nostra si mette nelle condizioni di ricevere palla Nell'unico punto disponibile, nell'unico corridoio dove il terzino sinistro lo può trovare Quindi terzino sinistro che trova la nostra punta Mentre viaggia la palla in questo, diciamo, corridoio Il nostro 10, che è il tre quarti, è pronto a ricevere palla Però così facendo crea a catena un movimento, diciamo, del nostro centrocampista centrale Ok? Che si mette nelle condizioni di dare la possibilità al 9 Che nel frattempo si è posizionato per far la sponda Di servire o il 10 che apre o l'8 in sostegno Allora, trovato l'8 in sostegno, che è la situazione che ci fa vedere dove andare a colpire, diciamo, il lato debole Guardate cosa viene fuori Passaggio dietro l'8, riceve Mentre questa palla viene scaricata, il nostro terzino destro allunga E va a colpire questa zona che per forza di cose libera Perché nel frattempo il terzino sinistro avversario deve farla diagonale E quindi deve anche accompagnare il nostro esterno destro che ha stretto la sua posizione E con il tempo giusto dell'inserimento abbiamo questo cambio Ora, questo cambio di gioco, guardate quanti uomini salta 1, 2, 3, 4, 5, 6 E questa volta è il cambio di gioco che, diciamo, mette in pratica il cosiddetto packing rate Il terzino destro opposto che riceve palla sul cambio di gioco Saltati 6 giocatori e superiorità numerica sul lato debole Il calcio viene prima di tutti noi Siamo a disposizione con la nostra passione Siamo a disposizione